Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Secondo quanto trapelato di recente, sembra che l'addio di Amadeus alla Rai possa anticipare un altro importante cambiamento. Si vocifera che Fiorello stia pensando di prendersi un anno sabbatico. Questa notizia potrebbe deludere i suoi fan, ma il noto showman siciliano sembra essere intenzionato a concedersi una pausa, stando alle indiscrezioni circolate nei media. La decisione di Fiorello sembra non essere direttamente legata all'addio di Amadei alla Rai, ma piuttosto alla necessità di riposarsi un po'. Tuttavia, molti ipotizzano che, oltre alla pausa, Fiorello possa seguire l'amico Amadeus su Discovery, dato che entrambi hanno sempre dichiarato di essere liberi pensatori e di aver proposto alla Rai solo progetti specifici. Al momento, sono solo voci non confermate. Ma non è da escludere che Fiorello possa presto intraprendere nuove strade. Quindi, al di là di queste speculazioni, nulla è certo riguardo alla sua presenza nella stagione televisiva 2024-2025. Ma i fan possono comunque sperare di continuare a godere del programma Viva Rai 2.